Un'altra segnalazione per la nostra rubrica di Reporter. Stavolta arriva da San Concordio, dove un cittadino ci segnala una situazione di grave pericolo. È un buco, anzi, una voragine. Laddove è saltato un tombino, non c'è stato alcun intervento nemmeno per segnalare la pericolosità. È così che nell'ultimo tratto di Viale Europa, direzione San Concordio, nel margine destro della carreggiata, in una striscia che dovrebbe funzionare da marciapiede, è visibile a tutti una buca assai pericolosa per i piedoni e per gli eventuali ciclisti, per cui servirebbe, almeno via provvisoria, almeno una temporanea transennatura.